L'assessore Marinella Sclocco annuncia che Garanzia Giovani verrà rifinanziato anche nel 2016. L'assessore dice di puntare a favorire 4.000 tirocini formativi. Trentesima puntata della rubrica La voce dello spettacolo, interviste con Cesare Bocci, Marco Bonini e Eleonora Ivone nel dietro le quinte dello spettacolo Ospiti messo in scena al comunale di Atri. Buonasera, in apertura occupiamoci ancora di sanità, dei punti nascita che chiuderanno in Abruzzo. Sulla vicenda interviene il primo cittadino di Atri, Gabriele Astolfi, dopo le dichiarazioni che sono state rilasciate alcuni giorni fa in tv dall'assessore alla sanità Paolucci. Vediamo. Sindaco Gabriele Astolfi, qual è la sua opinione in merito alle dichiarazioni che sono state rilasciate all'assessore alla sanità Paolucci? Io stavo pranzando, sono rimasto veramente di stucco, sorpresissimo, perché dopo la grande vittoria, non solo politica, ma direi dei territori di ieri in Consiglio regionale, un Consiglio regionale infogatissimo, in cui non ci volevano fare entrare, ma senza entrare in polemica perché non portano a niente. Ieri la maggioranza è stata battuta perché la risoluzione del centrodestra e delle opposizioni del momento 5 Stelle è stata votata anche da quattro consiglieri della maggioranza. Sembrava che il Consiglio regionale avesse mandato al Presidente, nonché commissario ad acta d'Alfonso, di bloccare la chiusura dei punti nascita e di rivedere un po' la situazione complessiva. Certo, anche sul voto dei quattro della maggioranza io avrei qualcosa da ridire, perché immediatamente dopo questo voto bellissimo c'è stato il voto favorevole da parte della maggioranza della risoluzione proposta dal PD, che è una parte della prima risoluzione, che di fatto creava una specie di equivoco, perché erano due risoluzioni, la prima che bloccava il percorso della chiusura e che rivedeva la situazione, l'altra che invece parlava solo di rivisionare, di rivisitare la situazione, quindi era quasi un controsenso. In questo non mi ha fatto molto piacere che i quattro che hanno votato la risoluzione, la prima, poi abbiano votato anche la seconda. Però a prescindere da questo, purtroppo è quello che dico da sempre di queste persone, non bisogna fidarsi, questi passano sopra anche alla volontà popolare, a un voto democraticamente espresso in Consiglio regionale e soprattutto al Consiglio regionale che è espressione dei territori. Quindi hanno detto chiaramente che a loro non interessa niente, che loro andranno avanti per la loro strada, per cui per fortuna noi abbiamo già fatto ricorso al TAR come Comune di Atri e come amministratori del Comune di Atri, ci sono anche altri comuni che si stanno accodando ad adiuvandum a questo ricorso, daranno ancora più forza al ricorso, abbiamo chiesto la sospensiva e come purtroppo, continuo a dire da tempo, è l'unico sistema per bloccare quello che secondo noi è una stupidaggine vera e propria, cioè quella della chiusura dei punti nascita, soprattutto io parlo chiaramente per Atri, che ha superato i 500 e che ancora una volta evidentemente vede interessi non pubblici, non dei territori, prevalere sugli interessi invece delle città, delle comunità e delle macro aree. Sono rimasto veramente sorpreso, io credo che abbiano sbagliato per l'ennesima volta il PD, la maggioranza della regione, D'Alfonso e Paolucci e tutti coloro che li hanno appoggiati per una vita dovrebbero veramente vergognarsi di aver appoggiato queste persone a cui non interessa non soltanto il territorio di Atri e la macro aree, ma non interessa proprio il territorio abruzzese, fanno esattamente quello che vogliono per raggiungere i loro scopi che non sono sicuramente gli scopi della gente e dei popoli. A questo punto la domanda sorge spontanea, gli atriani potranno dormire o no sono i tranquilli? Se dipendesse da D'Alfonso e da Paolucci e dal PD sicuramente no, perché loro cercano in tutti i modi di barcamenarsi, c'è chi come qualcuno, non mi faccia dire il solito nome, vota la risoluzione del centrodestra e poi vota anche la risoluzione della maggioranza che va in contrasto con quella del centrodestra. Per cui io direi che c'è qualcuno che sta cercando di salvarsi, di pararsi qualcosa che non si vede davanti ma che si vede dietro e purtroppo direi che i cittadini di Atri non possono dormire sogni tranquilli. Ripeto, l'unica speranza che abbiamo è che il Tar, come noi riteniamo e siamo certi, dia ragione al Comune di Atri che vinciamo il ricorso, questo sì che bloccherà e sospenderà l'ordinanza commissariale sulla chiusura del punto nascita. Altrimenti purtroppo il punto nascita sarà chiuso già da settembre e ottobre e ripeto, quello che mi dispiace di più per Atri, e non lo dico per strumentalizzare politicamente la cosa, ma c'è gente, questa gente ha veramente fatto campagna elettorale, ha veramente promesso e ha detto il contrario di quello che stanno facendo. Io direi che molte persone dovrebbero vergognarsi di questo, però ripeto, a noi interessa soltanto che il punto nascita non venga chiuso e che l'ospedale di Atri, visto che mi avevano così tanto accusato di non aver fatto nulla, allora che qualcuno mantenesse le proprie promesse. Quindi speriamo nel ricorso al TAR, noi siamo molto fiduciosi, non possiamo essere certi al 100%, ma insomma siamo molto fiduciosi di vincerlo e questo veramente darà una speranza al nostro punto nascita, al nostro ospedale. Altrimenti purtroppo siamo in mano a delle persone che del territorio di Atri e del territorio della macroarea di cui Atri fa parte in maniera importante non interessa assolutamente nulla, i loro interessi sono altri. E ora occupiamoci di lavoro, ben 381 tirocini formativi già avviati, di cui 334 dal primo al 14 di aprile. Sono 110 invece i ragazzi autorizzati dalla regione Abruzzo a fare orientamento. Si tratta di primi dati relativi alle attività del programma Garanzia Giovani partite lo scorso 25 marzo. Tuttavia a giudicare delle richieste di adessione delle aziende abruzzesi e del numero complessivo degli under 30 iscritti al programma in Abruzzo circa 20.000 si prevede che saranno finanziati almeno 4.000 tirocini formativi, mentre gli altri 16.000 giovani saranno indirizzati verso le altre misure individuate dal piano regionale. Intanto il Ministero del Lavoro ha assicurato che Garanzia Giovani sarà rifinanziato anche nel 2016. A fare il punto della situazione a Pescara è stata in conferenza stampa l'assessore al lavoro Marinella Sclocco, affiancata dal capo Dipartimento Tommaso di Rino. Nel luglio scorso, ha ricordato Marinella Sclocco, erano state appena 3.000 le iscrizioni dei cosiddetti NET, ragazzi che non studiano e non lavorano a Garanzia Giovani. Poi, grazie ad un'azione capillare condotta sul territorio dalla struttura regionale e della partnership pubblico-privata, composta dalla rete dei centri per l'impiego e dalle agenzie private, siamo riusciti, ha detto Marinella Sclocco, a far girare le informazioni e così abbiamo centrato il target che intendavamo raggiungere. Nel frattempo, il Ministero del Lavoro ha definito anche un nuovo piano esecutivo, approvato poi dalla Giunta regionale, ma questa novità ha richiesto degli aggiustamenti in corsa e soprattutto un notevole lavoro di coordinamento. È il momento della rubrica La Voce dello Spettacolo. In questa trentesima puntata vi portiamo dietro le quinte dello spettacolo teatrale Ospiti, messo in scena al Teatro Comunale di Atri, e che ha visto protagonisti Cesare Bocci, Marco Bonini e Eleonora Ivone. Vediamo. Amici della Voce dello Spettacolo, un'altra puntata dedicata al teatro per la stagione teatrale 2014-2015 e il Comunale di Atri va in scena Ospiti. Uno spettacolo che vede come protagonisti Cesare Bocci e poi abbiamo anche Eleonora Ivone e Marco Bonini. Vogliamo dire com'è nato questo spettacolo, qual è la storia di questo spettacolo? Beh, è nato dalla penna di Angelo Longoni che ne è autore e anche regista. È uno spettacolo, una commedia molto divertente che però dà anche la possibilità, siccome affrontiamo un tema molto delicato, qual è quello dello stalking, di riflettere. Mentre si sorride forse uno è più aperto a ricevere dei messaggi che siano di divertimento oppure di riflessione. E in questo caso c'è anche questo, perciò ha un valore doppio. È uno spettacolo che scorre velocemente, i personaggi sono tutti molto divertenti e c'è questo intreccio di amori e di scambi di persona che poi portano al finale molto carino, molto divertente. Eleonora Ivone, qual è il suo personaggio all'interno di questo spettacolo? Il mio personaggio è quello di Sara che irrompe nella casa di questo scrittore, sceneggiatore, scrittore di battute comiche, come un fulmine a ciel sereno. In realtà non è neanche tanto sereno perché questo signore si trova investito da tonnellate di telefonate in cui tutti cercano Giorgio, che è questo fantomatico personaggio che esiste nella storia ma che non si vede mai e che si piazza dentro casa sua con la sua verve brillante, con la sua voglia di vivere, invadendo la vita di Leo e portandosi dietro un pazzo sostanzialmente che è Marco che interpreta il mio ex fidanzato che è lo stalker. In realtà questi tre personaggi sono tre personaggi alle volte un po' come dire anche sopra le righe ma che hanno a che fare tutte e tre con l'amore, l'amore visto da tre punti di vista completamente differenti ed è la loro maggiore occupazione perché il personaggio di Cesare ha a che fare con una moglie con la quale si è separato, io ha a che fare con l'amore di uno stalker che mi tormenta e lo stalker è tremendamente innamorato di me e non mi vuole mollare e lasciamo a Marco che lo spazio per descrivere il suo di personaggio. Il mio personaggio è l'unico che paradossalmente crede nell'amore, crede ancora nell'amore, ci crede così tanto che ci crede in maniera ossessiva e quindi ha comportamenti borderline, è ossessionato da questo ex fidanzato, questo Giorgio che è convinto che gli ha portato via Sara, in realtà questo Giorgio è sparito, nessuno sa dov'è e si ritrova dentro la casa invece di Leo che è Cesare Bocci, convinto che sia Giorgio. Quindi c'è poi una dinamica degli equivoci divertente che scatena la commedia. Nella popolare fiction il commissario Montalbano, lei indossa i panni del vice commissario Mimì Giorgio da ben 15 anni, quando si somigliano Cesare e Mimì? Zero, perché se no io Cesare mi ritroverei fuori casa dopo 10 minuti, questo lo dico sempre, non credo che la mia compagna accetterebbe i comportamenti di Mimì, una battuta, ci assomigliamo per tante piccole cose che ogni attore si porta dentro ai personaggi che poi va ad interpretare. Come hai detto è un personaggio che ormai fa parte della mia, della nostra vita da tanto tempo, è un personaggio che fa piacere, noi quest'anno andremo a rifarlo e sarà il 17esimo anno che lo facciamo. È un personaggio che fa piacere ogni tanto andare a rincontrare, a rivivere, è bello, molto bello. Il suo primo amore è stato proprio il teatro, ma oggi è famoso anche per lavori al cinema e in tv, ma ci confesse qual è la sua vera passione? Guarda, non faccio distinzione tra teatro, cinema e televisione, è quello che uno fa che dà la soddisfazione nel momento in cui si sta facendo. Tante volte si fanno delle brutte cose che bisogna fare perché bisogna non sempre avere a che fare con cose belle per campare. Perciò dipende da cosa sto facendo. Sono emozioni diverse, le emozioni che si possono avere con un pubblico che sta lì, respira con te. È diverso rispetto a ciò che si prova facendo cinema, ma non è né più bello né più brutto. Così è diverso appunto. Ecco, sappiamo inoltre che è stato conferito un attestato di grande chef. Dobbiamo immaginare che è anche un bravo cuoco. In estate questo palcoscenico, il teatro comunale dove ci troviamo in questo momento, si trasforma in un palcoscenico del gusto per una manifestazione che si chiama Atria Tavola, dove ci sono cooking show o esibizioni di diverso tipo. Le piacerebbe essere ospite per la prossima edizione di Atria Tavola proprio in qualità di chef? Mi troverei nel mio campo, su un palcoscenico, perciò sì, certo. A parte la battuta, certo che mi piacerebbe. Io lo faccio per serata di beneficenza e continuerò a farlo finché avremo voglia di farlo insieme ad un gruppo che è quello della mia compagna. Lo facciamo perché io ho la passione della cucina ma soprattutto perché essendo un personaggio pubblico credo che debba mettere a disposizione appunto per serata di beneficenza la mia immagine. E' una cosa che ha creato molta curiosità e di conseguenza anche una raccolta fondi che è quella che cerchiamo. Tornando allo spettacolo, Eleonora Ivone sta girando tanto questo spettacolo. Sì, ci ha dato veramente tante soddisfazioni. Ieri siamo stati, eravamo nelle Marche e abbiamo recitato a Pollenza, abbiamo avuto un'accoglienza meravigliosa. Giocavamo in casa perché Cesare è delle Marche, però ha avuto un grandissimo successo veramente ovunque. Ci ha dato delle grandi soddisfazioni, la gente è intelligente, lo capisce, legge dopo la risata, capisce il messaggio e questo ci riempie di gioia perché insomma vuol dire che il linguaggio teatrale ha ancora la sua funzione sociale e ha ancora la sua forza. Marco Bonini, vogliamo ricordare qualche data magari di qualche altro tour di questo spettacolo? Noi saremo dopo di qua, saremo domani a Nuova Feltria, poi andiamo a Torino e poi andiamo in Sicilia e poi a metà aprile dopo Pasqua abbiamo finito, per quest'anno almeno. Chiudendo, prossimi progetti? Prossimi progetti, finiamo questa tournée e poi io farò Montalbano, come ti dicevo quest'anno si ritornerà a farlo, erano tre anni che non lo facevamo, da 21 aprile inizieremo Montalbano e faremo due puntate e poi il prossimo anno ancora a teatro. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.